Un grande artista, una grande riconferma, ritorna alla ribalta dopo quattro anni, Felice d'Alise, con due nuovi brani tra cui uno a coppia con l'artista Nello Amato, dal titolo Nun te va bene. E inoltre il nuovo singolo, Nun me tra tenere, gli arrangiamenti sono stati curati direttamente dal maestro Peppe Migliacci. Autore Gennaro Squatto, Felice d'Alise, Felice d'Alise. Felice d'Alise, Felice d'Alise, contatti artistici 349-81-94-433 oppure 334-93-69-781. Noi non voglio abattare un conquered, tra cui uno ne fa' la mente, di aver Felice Dalise Cosa dire? Felice Dalise Ragazzi, il suo ritorno è un grande successo Felice Dalise